Matteo Salvini e Giorgia Meloni perdono un punto in due nei sondaggi. Lega e Fratelli d'Italia scendono. Anche PDM 5S vanno giù. Però leggermente meno. 0,6% complessivo. Boom di Forza Italia. Vediamo il primo sondaggio del 2021. Realizzato il 4 gennaio. Lega di Matteo Salvini cala nei sondaggi di oltre mezzo punto. Scendono PD di Nicola Zingaretti. 0,3%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Quattro decimi. E il M5S di Crimi e di Maio. O. 3%. Sale fortissimo Forza Italia. Silvio Berlusconi sfiora il 10,5% e guadagna oltre due punti. Sono i trend del sondaggio Tecne presentato a Quarta Repubblica lunedì 4 gennaio. Confrontati con quelli che vennero presentati nel programma di Rete 4 il 14 dicembre 2020. Andiamo ad analizzarli. La Lega di Matteo Salvini è il primo partito italiano nei sondaggi. Tecne. Con il 23,2%. Il carroccio rispetto a tre settimane fa però perde più di mezzo punto. Era dato al 23,8%. Ne approfitta solo in parte il PD. Infatti il partito democratico di Nicola Zingaretti scende al 20,1%. Da 20,4%. E resta comunque sopra i tre punti di distacco dalla Lega. Lega e PD giù. Ma anche Fratelli d'Italia e M5S in questi sondaggi scendono. FDI di Giorgia Meloni passa al 16,8% dopo che il sondaggio Tecne del 14 dicembre lo aveva attestato al 17,2%. Trend simile per il Movimento 5 Stelle che lascia lo 0,3% e passa al 14%. Distacco che resta dunque stabile con Fratelli d'Italia che ha ora 2,8 punti di vantaggio. Forza Italia vola al 10,4%. Silvio Berlusconi vede il suo partito in doppia cifra in questo inizio 2021. I sondaggi by Tecne solo tre settimane fa davano faiol 8,1%. Quasi due punti e mezzo guadagnati. Dietro da segnalare il leggero arretramento della sinistra. 3,2% con lo 0,2 perso. Che si fa raggiungere da azione di calenda. 3,2%. Stabile. Mentre Italia viva di Matteo Renzi passa al 2,9%. Da 3,1%. Più Europa perde un decimo. 1,8%. Mentre i verdi tengono le 1,5%. 1,5% a lo 0,3% a lo 0,7%, a lo 0,7%, a lo 0,7%. 1,5%. 2,5%. 3,2%. 3,2%. Grazie a tutti.